Nel tennis accade spesso che una circostanza fortunata si ripeta nel tempo, fino ad assumere le forme e i contorni di una sorta di amuleto. Rafael Nadal era diventato N1 per la prima volta nel 2008. Ufficialmente dopo l'oro alle Olimpiadi di Pechino che gli aveva consegnato ben 800 punti, non ditelo a Murray, ma principalmente grazie al clamoroso filotto di 27 vittorie consecutive tra Hamburgo, e, appunto, Cincinnati, dove si fermava in semifinale al cospetto di Djokovic. Nel mezzo due titoli SLAM, due Masters 1000 la vittoria al Queens. Assieme al bottino olimpico un totale di 7.750 punti in tre mesi. Per ritornare sul trono mondiale nel 2017, a tre anni dall'ultima volta, sono stati necessari appena 4.950 punti in quattro mesi. Da Monte Carlo a Montreal, con Cincinnati comodo. D.I. a Prodo. Viste le assenze di Federer e Murray i punti di questo Masters 1000 non saranno decisivi. Lunedì prossimo Rafa Nadal tornerà comunque ad essere il più forte tennista del mondo secondo i computer ATP.